Ciao a tutti, siamo così arrivati verso la fine del 2016, quindi dopo aver utilizzato dal 97 per 5 anni un Fiat Coupé di peninfarina disegnato da Bungle, poi per 2 anni il BMW 328 C E46 disegnato da Bungle e poi per un altro anno e mezzo un Fiat Coupé Turbo 20 valvole disegnato da Bungle, ho detto quasi quasi, che lavoravo in peninfarina, quasi quasi compro ancora una macchina di peninfarina, tant'è che ho acquistato a quel punto nel 2016 una macchina che non solo era disegnata da peninfarina, ma era anche prodotta negli stabilamenti di peninfarina. Dal 97 infatti la Peugeot 406 Coupé è stata, si è sviluppata con ovviamente supporto anche del centro stile Peugeot, ma a tutti gli effetti la Peugeot stessa ha delegato peninfarina alla sua costruzione. Il modello del 406 Coupé di fatto rappresenta un ritorno per Peugeot alle sue vecchie Coupé, era da anni che non faceva più il 504 Coupé, quindi erano passati quasi 15 anni, e quindi un ritorno un po' alle origini, era il terzo Coupé che faceva la Peugeot. Ricordiamo che la Peugeot è famosa perché già negli anni 30 costruiva le versioni Cabrio Coupé delle sue vetture, quindi ricordiamoci non è stata l'SLK la prima ad avere il tetto retrattile, ma era stata la Peugeot. Vabbè, torniamo ai giorni nostri. A questo punto decido di comprare, ovviamente sono appassionato di 6 cilindri, quindi decido di acquistare il 3.024 valvole, 6 cilindri, macchina da 190 cavalli. Ero abituato ai 190 cavalli e ai 220 cavalli delle macchine precedenti. Questo 190 cavalli con un sound grandioso, devo dire subito che è una macchina da gran turismo, non è una sportiva pura come può essere Stat, come possono essere considerate invece i Fiat Coupé e la BMW Coupé E46. E46, a tutti gli effetti questa la chiamo una macchina, una gran passista, una macchina che ti mette in autostrada, fai a 200 all'ora 500 km, scendi e non te ne sei minimamente accorto. Una macchina veramente grandiosa per l'aerodinamica, per la linea, alcuni tratti ricordano il Ferrari 456, ma non è questo il momento di farne il paragone perché la macchina vive tranquillamente di tutta la sua bellezza e splendore in autonomia, non ha bisogno di alcun paragone con le Ferrari. L'interno, l'interno che è spettacolare, offre un comfort che è decisamente di alto livello, oltre a tutti gli optional, che in realtà non sono optional ma sono di serie, quindi gli interni in pelle, i sedili sono elettrici con tanto di memoria, ha vari cerchi in lega, ha il sensore pioggia, quindi il tag di cristallo che parte ovviamente da solo, poi va bene l'ABS, i retrovisori esterni o elettrici, con l'interno è fotocromatico, quindi non verrete mai abbagliati, e poi c'ha un bellissimo sistema audio, molto molto raffinato, non ricordo se ha 8 o 10 altoparlanti, comunque veramente fatto bene, in più cosa manca? Ah sì, manca ancora il climatizzatore automatico, e poi sulle versioni post 99, la mia non ce l'aveva, c'è anche un sistema di navigazione, la mia 99 però non ce l'aveva, un sistema di navigazione un po' particolare. Tutto questo, ah ecco mancano anche gli specchietti retrovisori elettrici che si chiudono anche ovviamente. Tutto questo per dire che è una macchina che nel 99, quindi parliamo di 21 anni fa, anzi nel 97 è uscita, quindi parliamo di 23 anni fa, offriva tutte le cose che sono poi state offerte alle macchine un po' più, cioè meno di nicchia ma più comuni e semplici. Io ho sempre ragionato su questo fatto, se si acquista una macchina che era o che è stata top di gamma, all'interno di questa vettura si trovano sempre componenti e optional, insomma servizi, che poi vengono distribuiti qualche anno dopo alla diciamo grande massa, quindi alle vetture più piccole tipo le utilitarie. È sempre bene poi acquistare, come mia teoria, un top di gamma, perché normalmente chi lo acquista è una persona che non ha problemi di denari e quindi normalmente fa la montazione necessaria a queste vetture. Spesso, infatti, è più facile avere problemi con macchine più utilitarie, più di diciamo low cost, perché chi le utilizza ci investe meno soldi e quindi normalmente ha anche meno denari per mantenere la macchina in perfetta funzionalità. Questa è una mia teoria ma al momento ha sempre funzionato. Tra l'altro, a conferma, se può servire, del fatto che la linea della 406 Coupé fosse decisamente particolare, ricordo che un paio di anni fa lo stesso settimanale 4W, che insomma non è proprio l'ultimo in campo automobilistico in Italia, aveva organizzato un evento che si chiamava Street Show nelle strade di Milano. avevano praticamente chiuso il centro ed è esposto una serie di auto caratteristiche per ogni decennio. Bene, sappiate che ai primi due posti sono arrivati una Ferrari e una Porsche, 911, 964 e Ferrari 355, ma al terzo posto è arrivata proprio la Peugeot 406, 24 valvole, 3000, casualmente fotografata in questo video. Quindi, nel 2000, verso fine 2016 acquisto la Peugeot, mi rendo conto che è veramente una grande macchina, io sono molto più sportivo però come indole, per cui nel breve le vado a affiancare quella che è una mia passione da sempre, che è la Toyota MR2 Turbo, MK2 del 91, con cui mi tolgo tante soddisfazioni, però obiettivamente la macchina di tutti i giorni, che appunto era il Peugeot, mi va, tra virgolette, un po' stretto, nel senso che a me piace più, un po' più grintosa, per cui dopo un anno e mezzo circa, l'abbandono per un'altra vettura, che è una Megane RS 225, di cui parlerò in un altro video. Però, per fortuna, siccome le mie macchine, faccio sempre molta fatica ad abbandonarle, perché le coccolo, le adoro, le voglio bene, insomma, per fortuna trovo un grande appassionato a volerla acquistare, che è nell'ambito Peugeot da sempre, praticamente, e quindi lo ringrazio vivamente, grazie Bruno, di averla presa e di accudirla tutti i giorni, alla fine di questo video c'è anche un po' il passaggio di consegne della macchina, che adesso so essere decisamente in buonissime mani. Compratela, perché è veramente un... è una specie di chicca, ok? Tutto molto bello, raffinato, sembra di essere veramente coccolati. Ah, i sedili, ecco un'altra cosa, i sedili anche riscaldati, non mi sembra di averlo detto, forse all'inizio. Quindi vi troverete veramente come a casa. E certo, se avete la passione dello 0-100 in 5 secondi e mezzo, non è la macchina che fa per voi, ma se vi piace guidare, godervi le domeniche, a passeggio con la macchina e la famiglia, questa è assolutamente la macchina giusta. Delle foto e foto si vede anche che siamo usciti con la famiglia a fare qualche uscita con alcuni, in qualche raduno. è bella, è piacevole, è comoda. Non vi stancherete se avete la passione di, innanzitutto di vedere una linea fantastica, ma se avete la passione di guidare con un sound che vi, che vi, diciamo, vi rende tutta l'atmosfera piena. Ecco, mettiamola così. E questa è la macchina assolutamente per voi. Ciao a tutti. Sono regalato 406 coppia. Sì.